questo straordinario trittico costituisce forse l'apice dell'arte di hieronymus bosch delle sue invenzioni e della sua straordinaria immaginazione come dice la parola stessa trittico l'opera si divide in tre pannelli uno centrale più largo e due laterali più stretti i due scomparti laterali inoltre si possono chiudere su quello centrale proprio come due ante di una finestra rivelando una quarta immagine che raramente viene mostrata raffigurante il terzo giorno della creazione del mondo ad ante aperte davanti ai nostri occhi sconcertati si delinea una rappresentazione ricchissima che spazia dalla creazione dei progenitori passando per il giardino delle delizie sino a scendere all'inferno insomma una vera macchina figurativa che non conosce rivali nel pannello di sinistra sullo sfondo di un rigoglioso paradiso terrestre popolato da splendide creature dio presenta eva a cospetto di adam lui appena svegliato dal sonno osserva la compagna generata da una sua costola con un'espressione di vera sorpresa dio è rappresentato più giovane del solito più simile in effetti alle immagini di gesù la scena brulica di animali tra i quali scorgiamo creature reali come la giraffa l'elefante la lepre delle scimmie e così via ma anche creature inventate come l'unicorno le piante presenti sono le più disparate e sicuramente attirerà la vostra attenzione un curioso albero alle spalle di adamo noto come dracena forse il nome vi dirà poco ma in realtà la versione arbusto di quest'albero è chiamata tronchetto della felicità ed è molto frequente nei salotti e negli uffici come pianta da interno al centro del fantastico paesaggio ricco di fauna e flora vediamo infine un laghetto dal quale emerge una splendida fontana della vita la parte centrale del trittico raffigura un finto paradiso che inganna i sensi un giardino delle delizie dedicato al peccato e la lussuria qui bosch ha incluso un gran numero di figure umane nude ad eccezione della coppia in basso destra identificata come adam ed eva dopo la cacciata dal paradiso uomini e donne sono divisi in gruppi o coppie intenti a consumare relazioni amorose di varia natura l'artista colloca al centro di un grande parco un ammasso di fanciulle e intorno ad esse un largo cerchio di cavalieri che ruota in senso antiorario in primo piano un gruppo di uomini e donne nudi si divertono godendo della presenza di uccelli piante e compagni dell'altro sesso gli animali rappresentati sono molto più grandi della realtà e tra questi bosch sottolinea in particolare due diversi tipi di gufo che evocano il male questi uccelli ai due estremi laterali del pannello dirigono i loro sguardi inquietanti verso di noi sono presenti anche piante e frutta la figurate molto più grandi rispetto alle dimensioni reali con connotazioni erotiche e riferimenti allegorici agli organi sessuali in contrasto con la confusione che prevale in primo piano la geometria si impone invece sullo sfondo attraverso costruzioni architettoniche fantastiche vediamo fontane e padiglioni intorno a un lago che si spinge fino all'orizzonte mentre a destra e a sinistra alcune misteriose figure alate spiccano il volo il pannello di destra raffigura un inferno musicale dalla presenza degli strumenti usati per torturare i peccatori che hanno dedicato il loro tempo alla musica profana qui tutti i peccati capitali sono puniti gli avari vengono divorati e immediatamente espulsi dall'ano di una creatura con la testa di un uccello seduta su una specie di trono gabinetto i golosi sono castigati nella taverna al centro del dipinto situata all'interno dell'albero uomo in attesa ad essere serviti da rospi diavoli e altre creature sgradevoli invidiosi invece sono torturati per immersione in acqua ghiacciata la curiosa taverna uomo al centro dello scomparto ha il torso a forma di uovo la parte inferiore del corpo formata da tronchi d'albero marci e i piedi appoggiati su barche in questa parte del trittico bosch descrive la trasformazione dell'uomo in bestia come meritato castigo al vizio e alla depravazione il pittore qui si sofferma come mai prima sulle punizioni dei peccatori raggiungendo un vertice nella descrizione pittorica delle cose più disgustose e inquietanti insomma un vero guazzabuglio infernale che ancora oggi incute paura e affascina allo stesso tempo sul retro delle ante visibile solo quando il trittico è chiuso bosch dipinse la creazione del mondo racchiusa in un globo cristallino e vista come il terzo giorno della creazione descritto dal libro della genesi quando le acque furono separate dalla terra questa immagine è realizzata con la tecnica del grisaio che utilizza solo i toni del grigio creando dipinti monocromi le tre scene dipinte sulla faccia interna del trittico del giardino delle delizie quella normalmente esposta al pubblico hanno fatto nascere le più svariate e anche assurde teorie come spiegare il perché delle immagini rappresentate quella più attendibile e ragionevole individua come filo conduttore dei tre pannelli il peccato in breve possiamo dire che l'intera opera costituisce una predica contro i piaceri della carne e che descrive l'umanità come perduta nel peccato si passa infatti dalla nascita del peccato originale a sinistra alla fine del peccato punito all'inferno a destra passando per il pannello centrale in cui domina la lussuria visti molti dettagli e le allegorie spesso indecifrabili siamo portati a pensare che questo trittico non fosse ideato per una chiesa dove sarebbe stato esposto al popolo ma per un mecenate laico e intellettuale purtroppo non conosciamo né il committente né le traversie che portarono l'opera in spagna nella collezione dell'escorial nel 1595 per poi finire in tempi più recenti al museo del prado dove oggi è esposta lo stato di conservazione del trittico del giardino delle delizie non è buono puliture troppo aggressive hanno appiattito molti particolari e figure ma nonostante ciò la visione d'insieme è ancora stupefacente di fronte a opere come questa siamo portati a pensare fino a che punto può spingersi l'immaginazione umana ironimus bosch nel trittico del giardino delle delizie mescola tradizioni popolari e citazioni bibliche diavoli e paradisi incubi e nanetti esseri mitologici e animali fantastici tutto si incrocia e si mescola creando un universo visivo senza precedenti e anche se noi persone moderne nella maggioranza dei casi non ci facciamo più condizionare da superstizioni morali e leggende rimaniamo estasiati da ciò che è stato in grado di produrre il pennello di un pittore che non si mosse mai dalla sua piccola città del nord europa se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao